È la gratitudine, il sentimento prevalente per un'esperienza che reputa indimenticabile. Stefania Bonaldi, sindaca di Crema, ha approfittato di questi 15 giorni di ballottaggio per scrivere e salutare tutti coloro che hanno condiviso con lei questi 10 anni di percorso alla guida della città. In particolare ha salutato e ringraziato i sindaci, incitandoli a tenere sempre presente il valore del territorio unito, ma anche le associazioni di categoria e tutte quelle realtà culturali e sociali, anche gli sponsor che l'hanno sostenuta e accompagnata. Insomma è stato un bel momento anche per fotografare davvero come l'azione e la crescita di una comunità sia frutto di un impegno corale e questa è una soddisfazione ovviamente personale ma anche proprio da amministratrice. Ora è pronta, anche se non nasconde l'emozione, a lasciare l'ufficio di Piazza Duomo per accogliere da lunedì il neoletto sindaco. In realtà gli scatoloni li ho già fatti, adesso ci sono proprio le ultimissime cose e in realtà credo che lascerò proprio libero l'ufficio già da domenica perché al di là della forma, dal momento della proclamazione, il sindaco sarà quello che viene acclamato poi, eletto e poi acclamato domenica sera e quindi da lunedì qui sarà tutto a disposizione di chi ci sarà e del lavoro che c'è da fare che è sempre tantissimo. Non nega di volersi impegnare per cercare il candidato di centro-sinistra delle prossime elezioni regionali ma bisogna tener conto non solo del campo largo, anche della componente civica. Assolutamente necessario e strategico valorizzare la componente civica che a mio avviso non vuol dire fare la lista del presidente due mesi prima delle elezioni ma vuol dire andare sui territori, mappare le esperienze civiche. La sua disponibilità a lavorare c'è. Ancora questa convinzione molto romantica che le elezioni si vincano se sta in mezzo alle persone, se le sa ascoltare, se consumi tanto 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 le suole delle scarpe.